Due giornate di squalifica E' una vita da dimenticare in fretta per il risultato e per il gioco espresso, soprattutto nel secondo tempo, che non siamo riusciti a fare granché e vogliamo riscattarci subito. Per quanto ti riguarda, tu quest'anno stai sperimentando anche un ruolo nuovo, un ruolo che probabilmente hai fatto poco in carriera, però stai facendo bene, forse ti manca qualcosa in fase offensiva? Sì, è un ruolo nuovo che avevo fatto poche altre volte, mi piace molto perché ho molta libertà di corsa e di inserimenti, sicuramente devo riuscire a fare qualcosa in fase offensiva di più, magari riuscire a trovare un gol o qualche passaggio decisivo. Anche a te più o meno la stessa domanda che è stata fatta prima al tuo compagno. Il Catanzaro quest'anno stenta un po' in trasferta, non riesce a fare risultati o a rendere come sta rendendo in casa. Secondo te che cos'è che sta pesando di più in questo bilancio? Sicuramente tutte le squadre che giocano in casa ci mettono qualcosa in più, come noi magari in casa riusciamo a fare più risultati positivi, fuori casa le squadre di casa ci mettono qualcosa in più che ci mettono più in difficoltà. È sembrato anche a te comunque che a Caserta la squadra avesse meno grinta, come ha detto il tecnico, cioè avesse meno cattiveria, avesse messo meno cattiveria rispetto alle altre gare? Tu l'hai vista ovviamente da fuori la partita? Io l'ho vista da fuori, ma secondo me nel primo tempo è stata una partita equilibrata, forse nel secondo tempo abbiamo peccato un po'. Anche l'episodio magari del rigore lì, non si è stati abbastanza cattivi magari ad andare a prendere l'aria spinta? Sì, poi da fuori è facile vedere, anche io ho detto come mai nessuno è arrivato, però poi in campo è diverso perché basta un attimo che parte prima e fa la differenza. Senti, il tuo ruolo è un ruolo anche di fatica, è un ruolo in cui si deve fare dell'agonismo la propria forza, tu lo stai dimostrando, forse addirittura alcune volte fin troppo, e hai in qualche modo condizionato il tuo connazionale Marine, anche lui è uno che si fa sentire in campo, questo è un fatto positivo, insomma è un ragazzo di 18 anni che gioca con questa grinta, con questa personalità, è una bella cosa. Sì, è una bella cosa soprattutto perché essendo giovane, 18 anni, dimostra di avere una buona personalità e secondo me è un giocatore che può crescere ancora molto, però sta facendo già bene adesso. Senti, adesso arriva questo derby con la Regina, bisogna chiudere bene l'anno, bisogna cercare di far dimenticare la sconfitta di Caserta, contro una squadra che sembra in qualche difficoltà. Sì, sicuramente una squadra in difficoltà, viste le ultime partite, però sono convinto che se riusciamo a fare la nostra partita e facciamo tutto quello che dobbiamo fare, riusciremo a fare il risultato positivo. Dove credi si possa assestare alla fine di questa stagione il Catanzaro? Lo commentavamo prima con un dinunzio, fino a questo momento forse è un campionato in linea con quelle che erano le aspettative, che secondo te però il Catanzaro potrebbe fare qualcosa in più rispetto a quello che ha fatto fin qui? Secondo me la classifica attuale è giusta perché i punti alla fine sono quelli che abbiamo e è giusto. Dipenderà molto da noi, però l'obiettivo rimane la salvezza, poi se riuscissimo a fare qualche posizione più in su sarebbe ottimo. L'ultima cosa, cos'è cambiato con Dionigi e l'Enoto? E' un altro modo di giocare che ci permette di essere più aggressivi, più a uomo contro uomo e riusciamo magari a recuperare più palloni in fase offensiva ed essere più pericolosi vicino alla porta. E a quando il tuo primo gol? In casa, speriamo il presto possibile. Speriamo sabato. Speriamo. Ok. Grazie. 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 Grazie.